E veniamo adesso a parlarvi di Temptation Island, ma soprattutto, delle anticipazioni della seconda puntata del reality. Ricordo che la prima puntata di Temptation Island, è andata molto bene con il 22%. A dimostrazione che quando un reality è fatto bene funzionano anche gli ascolti. Andando oltre nella puntata di stasera, terranno banco i due del trono over. Ossia Cristina, in Corvaia e David Scacrantino. Insomma una cosa è certa stasera, non manchereanno di certo le scintille. Infatti vedremo l'ex dama cenare romanticamente con il suo tentatore Sammy. E insomma pare davvero che stasera vedremo che mentre erano a tavola qualcosa è successo? Insomma per farvela semplice qualcosa che non è stato assolutamente gradita da David. Il quale a sua volta dopo avere visto il video ha detto delle parole che non sono certamente simpatiche. Dice David Scacrantino di Cristina in Corvaia. Ripercorriamo tutto quello che vedremo stasera a Temptation Island in questa cena. I due del trono over, Cristina in Corvaia e David Scacrantino nel programma Temptation Island stanno avendo grossi problemi di coppia. Dice Cristina a Sammy. Ti piace davvero come sto? Ti piaccio? Sincero? Tra me e te? Il tentatore risponde. Tra me e te? Ti dico. Perché sei fidanzata porto rispetto e non ci provo? Altrimenti ci avrei provato. Cristina in Corvaia replica quindi a sua volta. Veramente? E cioè come? In che senso? E lui? Ti devo fare un disegno? Dai! Ovviamente tutto questo è stato sentito da David Scacrantino che non ha mandato giù e ha sentenziato. Io penso che lei farebbe molta più bella figura a starsene seduta lì su una panca a non fare niente e a meditare realmente se vuole stare con me o no.